Nella suggestiva cornice del castello ad Ortona, un'esperienza unica per gli amanti del buon vino, Calici di Stelle. L'evento, organizzato dal Movimento Turismo del Vino, ha visto la presenza di circa 40 aziende che hanno proposto i loro vini, in particolare gli autoctoni, in degustazione anche l'olio extravergine di oliva, curato dal Movimento Turismo dell'olio. Una serata bella in tutti i suoi aspetti, lo scenario, la musica, il buon cibo. Nicola D'Auria, presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, ma anche presidente regionale. Una bellissima serata. Poi in questo castello, diciamo, il re e il vino? Sicuramente è un contesto bellissimo, ormai un contesto già affermato, sono diversi anni, grazie anche all'ospitalità del Comune di Ortona, che riusciamo a fare questo evento in un borgo, perché noi oggi scopriamo con Calici di Stelle posti belli, storici da far vedere, a far apprezzare ai turisti, alle persone che vengono in Abruzzo e che vengono a trovarci. Ovviamente il core business del Movimento Turismo del Vino è quello di portare gente in cantina, ma in un contesto così favoloso, essendo anche il periodo estivo, quindi in un contesto del genere che ci dà la possibilità non solo di vedere il mare, ma di ammirare gli astri, di vedere le stelle, questa serata che è fantastica, soprattutto per la bella gente che stasera abbiamo ospite. Sindaco Leo Castiglione, questa sera il castello è vestito veramente a festa? Sì, il castello è a festa, Ortona è a festa, è un evento che abbiamo voluto fortemente insieme al Presidente, logicamente a Nicola Tauria, al Movimento Turismo del Vino e dell'Olio. E quest'anno è bellissimo vedere questa comunione di intenti, vedere insieme le cantine importanti della nostra regione, insieme a frantoi importanti, per far sì che il prodotto Regione Abruzzo che si va a proporre sia completo il più possibile, perché sappiamo tutti che il vino e l'olio sono una ricchezza, un patrimonio da valorizzare e da proporre della nostra regione. Vice sindaco Cristiana Canosa, questa sera è uno spettacolo, che dire? Beh, Ortona è uno spettacolo e questa manifestazione evidenzia ancora di più lo spettacolo. Questa è una cartolina, vedete, sono le mura del castello aragonese, con i produttori che fanno degustare il loro vino. Insomma, si potrebbe definire una serata di marketing territoriale che presenta la nostra città nel migliore dei modi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!